Una prima tappa che ha portato l'esclusiva a Carovana fino all'autodromo di Perguse e poi a Caltavuturo, Cerda e Floriopoli. Le famose tribune di Cerda dove concorrenti e pubblico hanno potuto ammirare la targa Florio del 1934, trofeo vinto da Achille Varzi. Il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell'Università di Palermo è il centro dell'evento da cui ogni tappa parte e si conclude. Sarà una seconda tappa all'insegna del mito, quella che si vivrà in un percorso che porterà gli equipaggi innanzitutto a Cefalù, la perla del Tirreno con il suo patrimonio UNESCO, L'Ascari, Gratteri, Campo Felice di Roccella, Collesano, Castellana Sicula e Termini Imerese, la città dove tutto ebbe inizio. Saranno sul percorso della gara automobilistica più antica del mondo che ripercorre luoghi indissolubilmente legati all'evento ideato e voluto da Vincenzo Florio fin dal 1906. Sfida aperta per la caccia ai punti decisivi del campionato italiano Grandi Eventi e per il successo in gara con differenze cronometriche quasi impercettibili tra i top driver e non solo. Angelo Accardo e Filippo Bellina si sono messi in evidenza sulla Fiat 508C, come hanno fatto gli altrettanto agguerriti Francesco e Giuseppe Di Pietra su un'auto gemella, entrambi equipaggi della scuola trapanese di Campobello di Mazzara. Finita anzitempo la prima tappa per il pluri vincitore Giovanni Mosceri per la prima volta sulla neorestaurata Lanciardea, purtroppo tradito da un problema meccanico. Grande ammirazione per la Zast del 1906, auto che ha la stessa età della Targa Florio.